Le mie grosse, grasse vacanze greche non hanno quasi niente a che fare col mio grosso, grasso matrimonio greco, se non per il fatto che la protagonista di entrambi questi film è Nia Eugenia Vardalos, attrice, sceneggiatrice e regista di Ascendenze Greche, nata in Canada, naturalizzata in America, che con il mio grosso, grasso matrimonio greco è arrivata alla nomination per la miglior sceneggiatura originale. In questo caso la sceneggiatura non è sua, almeno non è firmata da lei, l'ha firmata un certo Mike Reis, però la Vardalos ci ha messo del suo, riuscendo a salvare quella che sulla carta forse era una cosa un po' più sciocchina e tirando fuori un film estremamente divertente, che ha un titolo originale molto migliore delle mie grosse, grasse vacanze greche, si intitola infatti My Life in Ruins, che significa sia la mia vita tra le rovine, perché la protagonista è una accompagnatrice turistica che porta i turisti in giro per le rovine della Grecia antica, ma anche la mia vita disastrata, perché ha una vita sentimentale che è completamente a pezzi e di cui cerca di rimettere insieme i pezzi appunto nel corso di questa storia. I turisti che la protagonista deve portare in giro sono per lo più turisti americani, insopportabili, volgari, petulanti, ignoranti, e cappeggiati da un personaggio particolarmente detestabile, ma detestabile in senso positivo, perché interpretato da Richard Dreyfuss, che è un anziano signore ormai apparentemente incattivito, poi in realtà scopriremo che è tutt'altro che cattivo, ma che è la persona che uno ama detestare in questo genere di film. È un film tutto di regia e di interpretazione, Donald Petrie gli dà un bel ritmo e riesce anche a gestire bene le scenografie naturali in cui il film si svolge, è una curiosità da segnalare che questo è il primo film girato sotto il partenone dal 1957, anno in cui era stato girato Il ragazzo del delfino con Sofia Loren, dopodiché il governo greco aveva scelto di non far mai arrivare le troupe lì proprio sotto la culla della civiltà greca, fino a quando per questo film hanno ritenuto che poteva invece servire come super dépliant pubblicitario per il turismo greco. Il film è divertente, venite a vedere La vita in rovina di Eugenia Vardalos, e buon divertimento, vediamo se questo servirà a pianificare le vostre prossime vacanze. Grazie a tutti.